bene buongiorno a tutti siamo in siamo in diretta sul canale youtube di app industria mantua sulla pagina sulla pagina youtube sulla pagina facebook di app industria mantua e siamo qua in diretta oggi per presentare questo libro che si chiama restart up adesso intanto aspettiamo un attimo per vedere naturalmente le varie persone se cominciano a collegarsi ma in realtà lo dico sinceramente ne abbiamo parlato anche con andrea panato queste presentazioni funzionano anche perché poi rimangono e se rimangono vuol dire che uno le può le può riascoltare per assurdo forse questo periodo del covid ci ha fatto riscoprire il piacere della conversazione che è un dialogo è un continuo rilancio rispetto a prima quando molto spesso assistevamo dei grandi monologhi di persone che dispensavano sapere invece adesso c'è sempre questo dialogo il dialogo in questo caso nasce da una bellissima occasione un'occasione di quelle che capitano quando si lavora con persone di valore quando magari si colgono i riferimenti lo racconto appunto ad andrea prima di iniziare appunto questa questa conversazione è passato di qua una dall'associazione dove siamo un consulente mi ha detto sai che sto leggendo una cosa ha aperto la sua valigia e ha tirato fuori un libro quando ha tirato fuori il libro io l'ho guardato e mi è piaciuta la copertina mi è piaciuta l'idea che ci stava dietro e allora la prima cosa che ho fatto in questo momento di relazioni ho scritto su linkedin ad andrea panato devo dire che linkedin è un grande livellatore perché se lo sai usare le persone poi rispondono anche se non ti conoscono perché magari vanno a dare un'occhiata al profilo no così lui mi ha risposto e abbiamo organizzato la presentazione di restart up questa presentazione l'abbiamo organizzata pre covid doveva essere ieri in presenza poi la settimana scorsa l'ho chiamato gli ho detto ma cosa ne dici andrea se la facciamo invece utilizzando questi strumenti diciamo così e lui mi ha detto di sì ma di tutti sì e siamo qua e quindi io do il benvenuto naturalmente ad andrea panato lo ringrazio di aver aderito al nostro invito gli chiedo forse sento un ritorno dell'audio se puoi provare ad abbassare solo un attimo poco poco va meglio sembra sì sembra che vada meglio perfetto e quello che quello che dicevo appunto ad andrea andrea panato è che prima di arrivare al libro io gli chiederei di dirci chi è naturalmente andrea appunto che è arrigo andrea panato poi tanto diciamo che andrea e poi dopo magari gli faccio una domanda per capire che è arrigo però chi è cosa fa intendo dire nella nella sua nella sua vita professionale quindi come impatta sulla vita a questo punto delle aziende beh insomma allora innanzitutto io sono un dottore commercialista e quindi che viene dalla valutazione d'azienda dove come studio siamo in un studio a 360 gradi come molti commercialisti ma con una discreta specializzazione in valutazione d'azienda operazioni straordinarie negli ultimi anni a questo abbiamo affiancato anche un po di curiosità nel mondo startup che devo dire inizialmente abbiamo un po rifiutato perché ci sembrava un po come posso dire un po effimero quindi non ci interessava molto poi abbiamo iniziato cinque sei anni fa in realtà a seguire un paio di spin off del Politecnico di Milano con dei professori quindi anche con un'anzianità del team e una qualità del team importante questo mondo ci ha appassionato e abbiamo continuato a lavorarci facendo comunque molta selezione tra le le startup che seguiamo e da lì poi è nato in qualche modo questo paragone tra PMI tradizionale e startup e che cosa una potesse prendere dal mondo dell'altra per provare a crescere e provare a come posso dire tornare a fare imprese in un modo nuovo si perché in effetti quello che tu mi stai dicendo è che bene o male nel mondo delle delle startup soprattutto per chi magari frequenta anche un po quella che è la pubblicistica la pubblicistica americana c'è intendo dire tutto questo mito no della startup o il mito del del garage e di quello che naturalmente è il l'idea che una startup è una serie di giovani che si mettono insieme a una grandissima idea e poi questa idea viene sviluppata in modo esponenziale questo mito diciamo così della startup in realtà si contro poi anche negli stati uniti secondo me ma anche in italia con una realtà molto più molto più dura e questa cosa che tu mi dicevi che all'inizio ne siete stati un po lontani per questo aspetto chiamiamolo effimero no o questa idea di questa di questa sorta di bohem in un'azienda startup devo dire che è abbastanza insomma è abbastanza normale poi sai ci sono due elementi che noi non abbiamo a differenza degli stati uniti una è un mercato dei capitali molto dinamico e due delle grandi aziende che possono comprare la startup certo quindi se tu pensi al mito del fallimento fallire bello eccetera fallire bello se i soldi sono del del fondo di investimento assolutamente prima cosa perché vuol dire che non ti fai troppo male se invece tu ti riempi di debiti con le banche questa operazione meno simpatica familiare no ma infatti ma infatti è proprio l'operazione è che tu l'exit la riesci a fare se hai una grande azienda che decide di comprarti l'exit è la valori della monetizzazione diciamo così la gestione dell'azienda o del progetto una volta molte startup non sono altro che un centro di ricerca fammi dire che sviluppa un prodotto nuovo che poi in qualche modo può essere acquistato il prodotto e il team quindi l'intera azienda da quella che solitamente è una multinazionale che poi con capacità di mercato conoscenza di mercato eccetera valorizza prodotto e team inserendolo all'interno del suo portafoglio no ma da noi vivendo principalmente di piccole e medie imprese è molto più complicato una via di quel tipo diciamo che non c'è nemmeno quella quella tradizione anche di questa idea no di acquisizioni continue per aumentare magari questa cosa adesso è whatsapp penso che adesso sia di facebook se non sbaglio no quindi sono tutte queste naturalmente cose che vengono acquistate e prima di entrare però nel punto nel nel libro perché poi bisogna anche dire che appunto bisogna capire come si passa da un commercialista a tutto campo che si appassiona in parte anche alle startup con un percorso cosa come si fa a passare commercialista allo scrivere un libro in un paese in cui quasi nessuno legge no perché poi dopo uno dice se c'è quella cosa dei gialli che dicono se vuoi nascondere intendo dire un assassino il posto dove non lo trovo nella seconda pagina di google nascondere delle idee interessanti in un paese come l'italia mettile in un libro potremmo dire poi non è proprio così allora io devo dirti che questo libro nasce da un percorso di due anni e mezzo tre che è nato prima su web io scrivo per econopoli adesso le 24 ore dove ogni tanto lancio così qualche provocazione lato impresa c'è la cosa divertente che queste provocazioni sono state raccolte da una serie di persone particolarmente autorevoli poi trovi nell'intervistati quindi imprenditori innovativi abbastanza importanti con una buona signora con degli ottimi progetti professori universitari personaggi importanti nel mondo della finanza eccetera mi ha colpito molto questa disponibilità a dialogare ci siamo conosciuti su linkedin l'hai raccontato prima è stato molto interessante questa disponibilità di dialogare e a un certo punto ho deciso di dire sono venute tante idee e ho bisogno io per primo di metterle al sistema certo perché quello che sta emergendo diventa in qualche modo anche un metodo per fare consulenza che può essere utile anche al lettore imprenditore e quindi la sfida è stata poi quella di trasformare tutto questo in un libro devo chiedere a una quindicina abbondante di persone di partecipare alla scrittura attraverso interviste e devo dirti che la cosa più che più mi è piaciuta è che tutti mi hanno destinato tanto tempo cioè quando io ho chiesto l'intervista io ovviamente essendo una persona educata cerco sempre di entrare in punta di piedi certo in qualche modo o mandando le domande prima o chiedendo di poterla fare al telefono insomma senso che ho troppo tempo invece la maggior parte e soprattutto quelli che sono assolutamente più impegnati e con maggiore visibilità per le dimensioni dell'azienda mi hanno chiesto di fare l'intervista di incontrarci nel weekend per poterci prendere un pomeriggio o una giornata per affrontare il tema perché avevano bisogno volevano approfondire e quindi non volevano farla formale tra virgolette questa cosa mi è piaciuta molto perché è stato un momento di ricerca importante ma in effetti la adesso torno solo un attimo indietro perché poi volevo partire anche dal fatto che tu hai due nomi e volevo che citassi quella che è la prima frase che introduce il libro poi dopo invece torniamo al tipo di al punto al tipo di lettore però questa cosa del tempo che tu dici è effettivamente così cioè quello che dicevamo prima la conversazione il dialogo l'intervista il fare le domande se una persona secondo me coglie nella persona che ha di fronte una sana curiosità sono quasi tutti no inclini a parlare e a raccontarti assolutamente se colgono la diciamo così classica domanda fatta e tanto per fare e per non ascoltarlo oppure per raccontare il colore o per cercare di trovare quello che è quello che è l'aneddoto e invece secondo me le persone magari sono meno inclini a condividere quella che è un vero una vera e propria esperienza invece la condivisione la conversazione fondamentale le interviste poi ne parleremo di alcune all'interno del libro sono sono fondamentali anche perché è un libro corale è come se dal mio punto di vista da come l'ho letto Andrea Panato avesse creato una avesse come dire impostato una pièce teatrale e avesse dato la possibilità lui regista di questa cosa tutta una serie di personaggi di venire di raccontare il loro punto di vista in questo modo è una un libro tridimensionale un libro 3d perché non c'è solo la versione intendo dire di Andrea Panato non c'è solo la versione del lettore ma c'è anche la versione di qualcuno che ha partecipato appunto alla stesura del libro prima di arrivare al lettore però io vorrei chiedergli lui si chiama appunto Arrigo Andrea Panato e c'è una frase che io leggo in inglese perché l'altra lingua non la conosco e l'inglese è now we will be able to understand something let's look into the matter allora nel libro non è in inglese la frase ma è in dialetto milanese ed è una frase che fa riferimento a un'azienda che fa riferimento all'Arrigo che è nel nome appunto di Andrea di Andrea Panato devo dire che la cosa è nata perché ho portato mio figlio che trovate anche lui nell'introduzione del libro a vedere la fondazione Pirelli perché mio nonno Arrigo è stato un altro dirigente della Pirelli in bicocca durante la guerra quindi mi piaceva portare mio figlio a vedere insomma un pezzo della storia del nonno e mi ha colpito molto quella frase mi ha colpito molto che all'ingresso della fondazione quella frase andiamo a vederci dentro in qualche modo in milanese non mi arrischio perché fosse in inglese in dialetto certo e questa cosa mi è piaciuta veramente molto perché dà i due livelli il livello internazionale ma il livello anche molto allegato alle origini nella copertina del libro si parla di start up ma c'è un DNA stilizzato che è il DNA della piccola e media impresa io sono convinto che se la piccola e media impresa vuole crescere e ridisegnarsi deve riscoprire quello che è veramente tutti noi sappiamo che ogni impresa, ogni imprenditore ha un'idea imprenditoriale di fondo poi il resto gestisce ecco, riscoprire e rinverdire quell'idea imprenditoriale che caratterizza ogni azienda magari dopo due o tre generazioni perché l'azienda ha avuto successo o perché le cose funzionavano in qualche modo si è un po' assopita, si è un po' accontentata ecco, io credo che fare le start up sia un po' questo un po' riscoprirsi e quindi mi è piaciuta molto quella frase che era molto autobiografica anche se vuoi anche perché un po' me le hanno imposta alcuni imprenditori che ho intervistato uno tra cui è Ignazio Rocco di Torre Padula che è uno start up ma in realtà è stato un grossissimo ed è ancora un grosso consulente del mondo finanziario che ha fatto questa azienda, credimi, che è molto innovativa e che sta avendo assolutamente un successo e che quando gli ho proposto gli ho detto ma secondo te è un po' ardito buttargli una cosa in milanese lui si è innamorato subito e mi ha detto no, no, guarda devi metterla all'inizio del libro non metterla come citazione a metà un po' anacquata dentro mettila subito perché è tutto lì in quella curiosità c'è tutta la voglia di fare impresa che è questa, adesso io sono andato su Amazon questa è la copertina naturalmente di restart up con questo appunto, questo DNA devo dire che poi questa cosa del ridisegnare e arriviamo al lettore è interessante perché se io penso alla frase che cita appunto il figlio di Andrea e che è un'altra frase secondo me chiave per capire appunto cosa doveva finire il libro è questa, Tommaso Arrigo e i suoi Lego a quel momento così difficile in cui devi decidere di distruggere per poi ricostruire in effetti questo momento dei Lego è capitato a tutti quelli che hanno giocato naturalmente con i Lego però è davvero così, è davvero così penso anche per le aziende se una cosa funziona perché devo ridisegnarla se abbiamo sempre fatto così e ha sempre funzionato perché la devo cambiare in realtà poi nel libro questa cosa viene effettivamente spiegata secondo me molto bene, vengono dati molti spunti e allora io prima di arrivare a entrare proprio nel libro chiedo un'ultima cosa appunto ad Andrea che è per che tipo di lettore tu hai pensato questo libro nel senso che quando uno di solito decide di scrivere questa cosa è vero che hai il blog su Sole24ore quindi un lettore tu in testa ce l'hai un tuo punto di riferimento ma se avessi dovuto dire a chi lo darei in mano immediatamente qual è il tipo di lettore per cui hai pensato il libro? ma guarda allora io dico sempre che questo è un libro scritto in buona parte da imprenditori perché poi molte delle idee che io sintetizzo vengono dagli imprenditori e per l'imprenditore tanto è vero che quando io quando facciamo gli incontri di presentazione io chiedo sempre che ci sia un imprenditore presente certo e la cosa bella che emerge sempre è che poi il libro viene riempito di contenuti dell'imprenditore cioè un po' come quando ascolti una canzone d'amore e sono tre frasi se vuoi un po' banalotte però rivivi la tua di storia d'amore è vero in questa cosa a me è sempre piaciuto molto vedere che il libro è stato masticato, modificato, pasticciato scritto a margine eccetera dall'imprenditore il complimento che io ricevo più bello è ma sì guarda ci sono tante cose però non so come mai alla fin fine molte di quelle cose le avevo lette le avevo viste però mi ha dato una chiave e mi sono messo a scrivere perché una serie di cose che dovevo fare in azienda quindi mi hai acceso una scintilla su alcune cose certo poi il contenuti li mette lui li mette il lettore li mette l'imprenditore però il fatto che ci sia questa scintilla per me è un complimento molto molto importante ma è devo dire che è davvero così nel senso che poi ci sono anche delle frasi naturalmente che ci sono all'inizio di ogni all'inizio di ogni capitolo che sono delle frasi che tu hai scelto che sono evocative poi ne citerò una che mi è particolarmente particolarmente cara perché io sono un appassionato di fumetti e quindi insomma ce n'è una veramente molto molto interessante perché poi devo ammettere come c'è il mito delle start up c'è il mito dei supereroi in America e questi archetipi dei supereroi sono molto interessanti soprattutto un tipo di supereroe che è quello che quando fa il supereroe non ha difetti quando invece vive la sua vita normale è pieno di complessi di difetti che è un po' a volte quello che accade agli imprenditori quando sono nell'azienda e sono nel loro nella loro appunto nel loro mondo sono delle specie di supereroi quando li vedi magari nella vita normale tornano ad essere delle persone normali io credo che sia un po' come capita a tutti noi anche l'imprenditore di successo poi sotto sotto ti guarda e ti dice ma sai che fatica ho dovuto fare io per avere quel successo io credo che il segreto sia un po' quello ammettere che c'è stata fatica che c'è stata fatura anche a volte no no è proprio così adesso stavo andando a vedermi se la trovavo la cosa ma adesso la cerco mentre magari rispondi all'altra domanda la citazione appunto di questo fumettaro di questo autore però l'altra cosa che volevo chiederti è questa allora abbiamo detto appunto perché è stato scritto come è stato scritto e per che tipo di lettore poi adesso però andiamo ai due protagonisti alle due protagoniste del libro che sono le PMI e le start up perché questo libro cerca l'intersezione cerca qual è il punto che in realtà è quello che manca una e potrebbe essere utile per l'altra e viceversa e allora ti dico ti chiedo che qual è la differenza magari principale tra le PMI e le start up e poi andiamo magari a vedere quale potrebbe essere il punto invece di intersezione e quello che potrebbe andare a vantaggio dell'uno e dell'altro guarda allora io sono partito da un'analisi macroeconomica oggi in Italia abbiamo difficoltà a ripartire perché abbiamo delle come posso dire medie imprese eccezionali che funzionano molto bene che sono leader di mercato che lavorano con l'estero che sono inserite in filiere di valore che sono estremamente dinamiche abbiamo molte imprese marginali che fanno fatica a stare in piedi e che probabilmente stanno in piedi perché abbiamo tassi bassi e che quindi il tasso basso la liquidità che c'è sul mercato ti consente in qualche modo di sopravvivere e perdona molti errori e poi abbiamo una platea molto ampia questi sono dati Banca d'Italia di PMI che alla fine stanno abbastanza bene ma Banca d'Italia parla di imprenditore sopito a un certo punto dicendo che si accontenta cioè cresce io quando ho letto in un articolo sempre del sole di Luca Tremolada che le start up italiane rischiano di cadere vittima dei difetti della PMI che è quella di appena ho di vivere con soddisfazione di sedermi e di accontentarmi ecco questa cosa mi ha aperto abbastanza un mondo e ho detto proviamola a vederla dal punto di vista della PMI e non di quello della start up perché la PMI si accontenta e allora da lì ho detto beh analizziamo cerchiamo di capire meglio e mi sono fatto un'analisi autobiografica il nostro studio è uno studio di una decina di persone quindi non è un grandissimo studio che però vuoi perché siamo visibili vuoi perché siamo simpatici eccetera richiede molto spesso ci richiedono di fonderci di creare delle partnership piuttosto quindi noi ti dico l'anno scorso abbiamo ricevuto otto offerte di fusione o di acquisizione del nostro studio che sono tante certo e io periodicamente dicevo no non siamo pronti quindi mi sono fatto una bella analisi e ho detto ma perché la start up passa la vita a essere pronta per l'investitore mentre la PMI passa la vita a evitare l'investitore e anche studio panetto ogni volta dice che non è pronto in fin dei conti i risultati funzionano si accontenta un po' e dice lo farò dopo no certo tanto è vero che il sottotitolo che non è mio ma è della casa editrice sì che per me è bellissimo devo dire le scelte imprenditoriali non più rimandabili certo ecco è esattamente secondo me la sintesi del libro la PMI si accontenta e rimanda mentre la start up parlo di quella sana quella costruita bene con un team eccetera invece dedica molto spazio alla persona cerca di selezionare i migliori si apre ad investitori è sempre alla ricerca di imparare cerca di essere agile ecco questi sono tutti in qualche modo requisiti che anche la PMI dinamica io la chiamo così per evitare la PMI innovativa che poi diventa un tema di legge eccetera che anche la PMI dinamica ha e quindi ho detto beh in fin dei conti la differenza vera tra la start up e una buona PMI è che la start up ha bisogno di scalare molto velocemente quindi di crescere in maniera è un tema di velocità e quindi anche di capitali che ha bisogno di aver dentro ma una PMI tradizionale gestita bene forse se si mette a checklist io ho individuato a grandi linee dieci punti certo può rubare molto dello spirito della start up soprattutto perché tutti noi oggi vediamo o se non lo vediamo dobbiamo 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 vederlo che i settori sono stati assolutamente disegnati i settori di mercato sono stati modificati se io penso al nostro studio ripeto il libro è molto autobiografico io è da tempo che non mi confronto più nel momento della crescita nel momento di disegnare le nostre strategie col mondo dei commercialisti classici ma di più con l'advisor che fa MNI lo studio legale d'affari che fa consulenza direzionale poi ovviamente si pasticcia tutto no? sì sì vabbè di trovare una tua soluzione assolutamente ma io quello che chiedo sempre ai miei clienti soprattutto quando vanno bene quindi quando sono soddisfatti che è il momento più pericoloso sì è quello di dire mi dici fuori dal tuo settore qual è l'azienda che ti incuriosisce qual è l'imprenditore che ti stimola io trovo per esempio da seguire un imprenditore straordinario Luca Foresti del centro medico Sant'Agostino sì che è uno degli intervistati però ovviamente fa tutt'altro rispetto a quello che faccio io per intenderci certo ma in effetti questo è molto interessante perché vuol dire superare gli schemi e superare secondo me le barriere quello che prima facevo la citazione di Erastain Lee uno dei più grandi autori naturalmente di fumetti che dice io non ho ispirazioni ho solo idee scadenze e le idee scadenze secondo me sono fondamentali perché devo ammettere che in tutto quello che stiamo vedendo in questi momenti appunto di covid di pandemia o altro quello che però stiamo tornando a imparare è che bisogna bisogna scrivere le cose bisogna scrivere le idee bisogna darsi delle scadenze altrimenti le cose non si muovono io devo dire che ho rispolverato il quaderno il tenodire del liceo dove scrivo gli appunti e queste cose perché è così il digitale è fenomenale ma poi l'atto dello scrivere e del riflettere appunto di appuntarsi le cose è fondamentale quello che mi piaceva appunto di quello che stavi dicendo del fatto che tra PMI e start up ma soprattutto anche tra imprese diverse bisogna abbattere questa idea che se io sono in un settore non posso imparare da un altro settore o non posso andare a curiosare è un'idea che tra l'altro per noi è tipicamente rinascimentale se noi pensiamo alla Firenze appunto dei medici alla Firenze dei grandi artisti rinascimentali Brunelleschi è un architetto è un capomastro è uno che sa intendo dire di tecnica studia la prospettiva scrive fa trattati e tira sulla cupola intendo dire che tutti sappiamo e tutti vediamo e questa lo può fare solo perché supera quelle che sono le barriere magari tra le attività oggi per esempio vedremo se ci sarà tempo naturalmente di parlare anche del mondo dell'università oggi l'università viene vista molto spesso come accademia e come persone che studiano qualcosa che è di nessun interesse pratico e le università vedono le imprese come luoghi dove non si fa davvero ricerca ma si mette solo a terra qualcosa che un altro ha già pensato prima se si riuscisse a trovare questo punto di intersezione per superare questa diciamo diffidenza che c'è tra i due mondi secondo me ci sarebbero veramente tantissime possibilità soprattutto in un'Italia che ha punto ed eccellenza tra le medie imprese come dicevi tu le imprese dinamiche ma anche le piccole imprese che vogliano crescere e l'università che in realtà fa il suo lavoro quando ci sono delle persone di valore all'interno per esempio tu intervisti Paolo Gubitta che parla appunto di imprese familiari e un'altra differenza probabilmente tra le PMI e start-up è che la PMI che di solito appunto ha una matrice familiare almeno in Italia ha una visione completamente diversa rispetto alla start-up che è questa quello che dicevi tu prima no? la PMI è come se fosse il figlio dell'imprenditore a chi verrebbe voglia di valutare o di vendere intendo dire un figlio no? e invece la start-up nasce proprio con l'idea che quello lì è un progetto che io costruisco creo e poi lo voglio mettere sul mercato ma guarda rubo la citazione a un altro grande imprenditore che è Alberto Baban sì e lui mi dice mi ha detto guarda l'impresa oggi devi gestirla come se dovessi venderla domani sì ma non venderla se non è necessario sì quindi è proprio un tema più che la vendita no? perché io so che quando affronto questo tema poi l'imprenditore mi guarda male e già vuol girare pagina no? lascio perdere sta roba io non ci penso nemmeno sto bene finché ci sono io ma il tema non è cedere l'azienda il tema è quante persone ti hanno chiesto di acquistarla sta azienda è corretto se hai tante offerte offerte serie ovviamente dove ti soffermi almeno a valutarle perché a un euro le compro tutte certo allora allora in quel caso stai lavorando bene l'imprenditore solitamente vede come cartina di tornasole il cliente che è giustissimo però è anche facile oggi certo se la tua azienda ha valore anche nel futuro lo capisce meglio l'investitore il concorrente quello sopra quello sotto nella tua filiera sì quante quante richieste di acquisto della tua azienda bere hai avuto questa è una domanda secondo me fondamentale certo ma infatti l'altra cosa che a me per esempio è piaciuta nel libro è che tu parli del disimparare e quindi di questa necessità di disimparare a fare le cose magari come si è sempre fatto perché vedi come le fanno gli altri e soprattutto ti incuriosisci questo punto di vista esterno all'azienda questo che dici tu dal punto di vista dell'investitore è molto complesso secondo me per un imprenditore però è come davvero avere un terzo occhio ti metti fuori e provi a vedere l'azienda in un altro modo che è quello che ti consente di capire anche quali sono magari i difetti e di avere un po' più distanza perché è naturale che se tu ci sei dentro come succede per esempio a noi nelle associazioni di categoria fai più fatica a vedere delle cose allora Giacomo ti faccio la domanda provocatoria che faccio io quando entro in un'azienda è oggi a grandi linee facciamo finta che il patrimonio netto sia un milione di euro certo cioè ciò che vale i soldi messi dentro non ciò che vale i soldi messi dentro tu rimettereesti un milione di euro in questa azienda domanda cioè se tu li metti in borsa quanto pretendi di avere come ritorno e oggi nella tua azienda il capitale che tu hai messo di immobili conoscenze know-how eccetera eccetera quanto dovrebbe renderti ok così togliamo togliamo l'effetto devo parlare non voglio nessuno dentro eccetera se tu ti togli il cappellino da manager della tua azienda quello che la gestisce torni a fare l'imprenditore e diventi investitore di te stesso tu ci metti dei soldi dentro ma non dei soldi perché sei innamorato per la tua famiglia perché se tu potessi continueresti a lavorare in questo settore se tu potessi continueresti a tenere dei soldi non dirmi non saprei cosa fare altrimenti sono già qua dentro certo è una roba diversa capisci è una roba completamente diversa è una roba che ti fa sembra una banalità ma ti fa vedere le cose in modo molto più imparziale diciamo così e soprattutto ti fa capire perché magari gli altri non investono o tu non sei attrattivo da questo punto di vista devo dire che l'altra cosa che è molto interessante del libro è che quando parla di valore dell'impresa fa anche tutta una serie di riferimenti al fatto che il valore dell'impresa è anche il suo avere una vision cioè una cosa che la guida naturalmente nella sua storia e dei dipendenti dei collaboratori delle ciascuno leader di se stesso importanti a me ha colpito molto ti chiedevo magari se mi dicevi come ti è venuta questo questo riferimento quando tu parli dell'inserzione che viene fatta per il nuovo direttore di un museo di un museo e io quando ho letto l'inserzione leggo solo alcune cose dove dice tratti della personalità nell'inserzione c'è questo dice una figura rappresentativa influente ispiratrice per il museo appoggi i valori fondamentali è curioso individuale aperto ambizioso intraprendente grande senso di responsabilità per la continuità capacità di prendere il comando pensatore agente rapido intelligente un buon giudice di carattere ha entusiasmo coinvolgente che attrae le persone e le spinge a esprimersi nel miglior modo possibile è di ispirazione per le persone incoraggia nuove idee è un pensiero fuori degli schemi bridge builder mediatore dotato di coraggio e perseveranza indipendente leale e onesto ha un buon senso dell'umorismo e sa come mettere le cose in prospettiva e qua a me è venuta in mente la scena di Mary Poppins dove i due bambini danno la lettera per appunto la inserzione per la governante il padre naturalmente la strappa però nella lettera di Mary Poppins c'è che sia brava è divertente cioè tutte queste cose qua allora uno dice ma se questo è il profilo di qualcuno che dovrebbe dirigere un museo che normalmente viene considerato il posto più polveroso più rigido più corso ma questo non è il profilo di chiunque di chiunque uno dovrebbe assumere all'interno di un'azienda o vorrebbe essere se fosse il leader perché tu hai citato l'inserzione di allora io devo dirti che io sono da sempre convinto poi non sempre passa questa cosa ma io insisto e martello finché non che l'economia della cultura quindi dall'inserzione del museo all'intervista a Corrado De Lì a carissimo amico nonché regista e attore teatrale è una importante palestra per l'economia che cambia cioè se tu ci pensi che cosa c'è di più innovativo che è legato alle idee dell'arte e che paragone ci può essere tra arte e innovazione una delle cose uno degli articoli che avevo scritto su Corrado era ci vuole disciplina per vivere di poesia sì certo ci vuole disciplina anche per vivere di innovazione perché quanti si innamorano dell'idea di avere il bigliardino in azienda e di vivere nel garage e che poi è colpa del mercato che non capisce perché la mia start up funziona e quanto invece è importante quelli bravi hanno una grande capacità di innovazione ma sono anche molto severi e disciplinati nel metterlo in pratica ed è una cosa che io ho trovato come paragone molto forte nel regista teatrale sì perché il regista deve avere idee deve disegnare deve sognare certo ma poi è un dittatore sul palcoscenico sì 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 è così deve la realizzazione deve essere molto severo nella realizzazione lasciare molta libertà agli attori ma contemporaneamente pretendere molto dagli attori mettiamola così più che severo più che dittatore deve pretendere che la qualità sia certo ma infatti è così e lei come la bottega questo riferimento mi piace molto anche perché oltre a questo magma di idee e di dall'altro lato se vuoi di disciplina l'economia dello spettacolo è sempre legata a una fortissima scarsità di risorse sì certo cosa che ormai sta iniziando a caratterizzare la nostra economia la caratterizzava prima oggi ancora di più e quindi devi essere in grado di creare ma con risorse scasse certo e questo lo trovo se si studiano con attenzione io cerco di fare un po' di analisi nel libro i due percorsi si possono trovare tanti spunti cioè come vedi io cerco di recuperare idee un po' confrontandomi ma la cosa interessante secondo me è proprio che quando uno pensa agli artisti di solito pensano al genio e alla sregolatezza così come con le start up pensa al genio e pensa a chi gioca a bigliardino o che magari appunto ha lavorato nel garage poi in realtà se uno va a vedere davvero queste queste persone sono persone che hanno una fortissima componente di motivazione di disciplina e sono hanno la fissazione per gli obiettivi quasi al limite della patologia cioè nel senso che per loro raggiungere l'obiettivo è quello che appunto devono fare molto spesso quando si cita un pittore maledetto e scapestrato si prende Caravaggio si prende dice grande genio poi grande sregolatezza omicida una persona che comunque andava in giro con la spada che frequentava prostitute e tutto quello che la leggenda nera di Caravaggio poi si va a vedere quello che Caravaggio fa nella sua vita ed è vero un uomo del 600 come lui era un uomo che era senza senza limiti nel senso che uccide uno a una partita di pallone e poi uno fa anche dei paragoni con l'attualità tendo a dire anche oggi per il pallone a volte magari si muore però la cosa interessante è questa tu vai a vedere i contratti che fa Caravaggio e i contratti che fa Caravaggio sono dei contratti molto precisi e lui rispetta perfettamente le consegne lui non vuole pagare penali lui rispetta le consegne appunto dei quadri rispetta i materiali che gli chiede il committente a volte cambia perché il committente non ha apprezzato quello che ha fatto quindi rifà nel rispetto di quello che gli chiede il committente e la cosa che a me ha colpito di più è stato questo quando lui scappa da Roma per aver ucciso appunto il suo il suo avversario in amore arriva a Napoli trova una commissione la prima commissione gli danno un anticipo e lo va a depositare al banco di Napoli che non so se fosse una scelta oculata dal punto di vista dell'istituto bancario intendo dire delle storie che magari ci sono state o se la banca fosse quella giusta ma uno che va a depositare i soldi in banca e poi si fa il banco ma per recuperarli capite che non è uno scappestrato è uno che ha un atteggiamento ha magari una sorta di suo ruolo che interpreta perché nel 600 gli chiedevano quello ma per quello che fa è disciplinato perfetto preciso e non sbaglia intendo dire non sbaglia un colpo questo è l'artista perché se l'artista pensiamo che sia genio esargolatezza ci perdiamo intendo dire tutto quello che ci sta dietro naturalmente l'artista e sto pensando anche al teatro perché il teatro è una grande scuola di organizzazione come dicevi tu Andrea poche risorse e soprattutto forse il cliente più difficile che è quello che viene a vedere il tuo spettacolo non perché gli salva la vita o perché gli serva per intendo dire sopravvivere ma perché tu l'hai convinto che a teatro succederà qualcosa che può vedere solo lì ed è una cosa fenomenale tu dimmi quale commerciale di un'azienda vorrebbe avere la capacità di convincerti ad andare a vedere il nulla che avviene sul palcoscenico assolutamente e l'altra cosa che ti chiedo è questa prima di arrivare poi ai vari punti di vista che sono presenti appunto nel libro quindi il punto di vista del consulente il punto di vista dell'investitore che abbiamo già accennato dal punto di vista della banca è questa tu parli di dati nel libro si parla tanto di dati e si dice che non bisogna avere paura intendo dire dei dati ma non bisogna nemmeno sottovalutare quello che appunto i dati ti possono raccontare mi racconti un po' questa importanza intendo dire dei dati vista anche dal punto di vista di come vengono governati all'interno dell'azienda devo dirti nel libro c'è anche una forte critica alla consulenza in generale e quindi vorrei partire da lì per poi arrivare ai dati l'anno scorso abbiamo organizzato grazie alla disponibilità di Sole 24 Ore un incontro a porte chiuse perché ho voluto poche persone tutte molto qualificate che io ho chiamato l'Accademia dei Pugni manzoniana dove il tema dell'incontro era imprenditori contro consulenti e io ho fatto prima parlare agli imprenditori perché gli imprenditori sono quelli che si espongono di meno che hanno meno voglia di discutere che tirarli fuori dal capannone è un problema eccetera e la cosa che mi è piaciuta molto è che gli imprenditori ovviamente hanno come posso dire colpito e affondato i consulenti in maniera micidiana tirato fuori un po' di stereotipi un po' di situazioni però hanno manifestato fortemente il loro scontento e a me questa cosa è piaciuta molto i consulenti poi ovviamente ma solo in seconda battuta hanno risposto perché come posso dire il ruolo da protagonista era quello degli imprenditori l'idea era quella di imparare e secondo me dico questo perché secondo me uno dei problemi coi numeri siamo noi consulenti a darli agli imprenditori quando noi chiediamo di fare un'analisi dei dati molto spesso abbiamo consulenti che arrivano in azienda portano via un fracco di tempo riempiono costringono l'imprenditore a studiarsi 10 20 30 indici di cui a volte l'imprenditore non capisce granché e pretende che il consulente non capisce granché e pretende che ne capisca l'imprenditore quando l'obiettivo vero è che ragionevolmente per gestire l'azienda quantomeno un'azienda di piccole dimensioni piccole e medie insomma ci sono due o tre numeri da tenere su un occhio a quelli servono all'imprenditore perché altrimenti l'imprenditore li fa gestire al ragioniere o al direttore amministrativo e quei numeri servono solo se poi l'imprenditore li guarda li modifica mi chiede di modificarli perché gli ne servono in maniera più dettagliata o meno ma li utilizza ok mio padre io mi ricordo a un aperitivo con un imprenditore d'estate dove io mi lamentavo perché in agosto incontravo un cliente si mise a disegnare quattro numeri su un fazzolettino di carta il classico tovagliolo di carta del bar e quando io gli dissi ma vabbè ma perché hai fatto quei due numeri e lui mi ha detto perché l'imprenditore ha bisogno di avere pochi dati ma quei pochi dati sono quelli necessari per la sua decisione poi vedrai chi tornerà a casa la sera ne parla con la moglie il giorno dopo litigano ma il pomeriggio prende la decisione ma non devo trasferire io la complessità dei numeri sull'imprenditore l'imprenditore bisogna dire di avere una sintesi ok e questo è un primo tema quindi i consulenti non sempre sono così bravi a dare sintesi all'imprenditore a parlare il linguaggio dell'imprenditore il secondo tema è che i numeri a volte si preferisce non vederli perché sappiamo tutti noi che a volte soprattutto in un'impresa familiare il numero il numero ti evidenza un problema in azienda e se risolvi il problema in azienda lo trasformi in un problema in famiglia no? c'è uno degli intervistati che racconta la sua esperienza con i controlli di gestione e dice io ho chiamato il mio consulente bravissimo mi ha fatto tutte le analisi e alla fine mi ha dato la risposta che io già immaginavo il vero collo di bottiglia in azienda è tua madre che a 80 anni gestisce l'amministrazione ancora con strumenti un po' arcaici certo ok e lui che è un imprenditore molto molto maturo molto avveduto ha detto va benissimo affianchiamo alla mamma una persona io so che il compenso della mamma è un lusso che io mi devo permettere ma lo scrivo alla voce lusso certo mia madre avrà sempre un posto fondamentale in azienda il collo di bottiglia però viene eliminato perché le affianca una persona io so che ho un aumento di costi devo essere consapevole che devo fare un aumento di ricardo devo essere devo avere un'azienda sufficientemente efficiente per compensare un lusso che mi prendo che è quello di mantenere il ruolo mia madre perché deve essere un ruolo importante quindi crea una sorta di bypass no? ecco noi a volte non abbiamo questa consapevolezza non nessuno dice dobbiamo stravolgere il rapporto impresa famiglia dobbiamo essere consapevoli dobbiamo sapere che al posto della Porsche ci teniamo in casa un familiare beneficente va bene così ma l'azienda deve essere in grado di sopportare questo quando l'azienda non è più in grado dobbiamo prendere delle scelte come dicevo prima non più rimandabili e quindi bisogna intervenire e in effetti questa cosa che mi stai dicendo poi ci porta dopo il punto di vista del consulente a vedere un altro punto di vista di cui si parla appunto nel libro che è il punto di vista della banca e tu fai riferimento a un sistema bancario italiano di un certo tipo e fai riferimento a queste a questi difficili a volte rapporti anche se poi dici che come hai detto anche all'inizio i tassi di interesse intendo dire basse o così sono anche certe volte un modo per nascondere quelli che sarebbero degli errori che in altri momenti non verrebbero perdonati sappiamo tutti che nella crisi 2008-2011 le banche hanno finanziato le perdite non hanno finanziato gli investimenti d'accordo? questo vuol dire che da una parte c'era un ruolo sociale che la banca ha fatto di ammortizzatore dall'altra c'è una forte inefficienza delle banche dichiarata non sto parlando male certo come parlo male dei consulenti c'è un'inefficienza molto forte nella stima del merito creditizio delle aziende questo da una parte incide non finanziando idee innovative dall'altra consente di tenere in piedi aziende che magari non meriterebbero di rimanere in piedi so che questo è un discorso antipatico ma secondo me va fatto questo vuol dire che l'imprenditore ha maggior ragione ha difficoltà a valutare la sua azienda perché se prima aveva un contraltare nella banca e riteneva autorevole la banca perché il sì o il no della banca era una risposta corretta oggi il sì e il no non sempre lo è fatemi dire quindi l'imprenditore ha già meno difficoltà è più difficile capire se l'azienda sta andando bene o sta andando male al di là dei numeri in sé perché tutti gli interlocutori che ha intorno non sempre sono sinceri o sono sufficientemente severi fatemi dire noi ci siamo occupati e probabilmente purtroppo torneremo a farlo in qualche modo anche di risanamento aziendale certo uno degli errori più grossi le litigate più forti che facevamo noi erano con i colleghi che avevano un atteggiamento consolatorio nei confronti dell'imprenditore uno dei problemi quando l'azienda è in difficoltà lo vediamo in un periodo come quello di oggi devi essere veloce perché quando l'azienda fa utili se perdi tempo ti porti a casa dei dividendi quando l'azienda fa perdite se perdi tempo porti a casa del debito quindi deve essere molto veloce quindi il primo problema è ed è un problema molto forte per l'imprenditore non è facile però il consulente li apposta insomma anche a rischio di perdere il cliente è chiarire immediatamente fare una fotografia della situazione e dire signori dobbiamo cambiare deve essere fatto qualcosa va venduto un pezzo bisogna trovare un socio va venuta l'azienda va chiusa oppure semplicemente ridefiniamo un piano di risanamento abbiamo tutte le possibilità per farlo per crescere ecco questo avendo un sistema bancario che non è così severo come spesso non lo sono i consulenti questo tutto ciò non aiuta l'imprenditore a prendere delle scelte nette sulla sua azienda e rimane su una sorta di zona di comfort mentre iniziamo a vedere che si stanno affiancando proprio per l'inefficienza del sistema bancario delle realtà noi per esempio stiamo vedendo su realtà piccole dei club deal quindi dei piccoli gruppi di investitori amici ovviamente degli investitori in sé noi abbiamo fatto sia su realtà di tipo informatico quindi start up giù di lì sia in realtà del mondo delle costruzioni dell'edilizia quindi molto tradizionale se vuoi dove l'imprenditore dice noi definiamo un progetto un progetto fatto molto bene con dei termini definiti con dei buoni margini piuttosto che avere un'eccessiva esposizione bancaria crea un gruppo di amici che hanno voglia di investire all'interno di questo progetto quindi si creano pian piano delle soluzioni alternative si crea il fintech come abbiamo visto con Credimi che citavo prima si creano poi a livelli decisamente più ampi operazioni come Tamburi & Partner che sono un fondo che investe in aziende italiane del Made in Italy però ovviamente di dimensioni medio-grandi eccellenze che è molto rispettoso della famiglia che governa e che ha un approccio molto più imprenditoriale e meno finanziario se si vuole che però sta avvenendo dei risultati eccezionali in termini di ritorni economici sì noi in effetti abbiamo avuto l'anno scorso un ospite allora gli facevamo le presentazioni ancora in presenza e abbiamo avuto Massimiliano Magrini appunto che ha un fondo di investimento e così e lui una cosa molto interessante che secondo me ha detto è stata questa che è naturale che il fondo di investimento ha delle logiche molto stringenti e questo impone anche all'imprenditore o alle start-up o comunque alle aziende su cui loro investono una valutazione molto forte del loro appunto del loro valore e quando lui diceva come si fa a scegliere un fondo di investimento a decidere se il fondo di investimento giusto o se l'imprenditore è giusto per il fondo di investimento diceva che lui si fa la domanda dell'aeroporto ed era se io mi trovo in aeroporto mi annullano il volo e ho otto ore di attesa e sono lì con l'imprenditore io sto lì con lui parlo mi confronto mi fa piacere intendo dire la collaborazione o cerco il primo taxi per andare in centro e lo lascio lì se cerchi il taxi dice forse non è il caso di investire e questo mi viene in mente con quello che mi stai dicendo tu di questi come dire di questi finanziatori amici o colleghi o altro che naturalmente investono anche se vedono che c'è non solo la buona idea ma anche la sinergia tra intendo dire se si capiscono ecco non sinergia è una brutta parola ma se si capiscono e se sono sulla stessa lunghezza d'onda prima di arrivare verso la fine intendo dire della presentazione io chiederei poi alle persone che ci stanno seguendo se hanno voglia naturalmente di fare domande basta scriverla nei commenti su facebook e nei commenti su youtube ti chiedo una cosa che abbiamo accennato prima cioè il rapporto cosa pensi del rapporto tra PMI e università abbiamo detto che questo rapporto o tra le start up diciamo così che quando sono centri di ricerca in realtà molto spesso escono dalle università soprattutto negli Stati Uniti ma tra le PMI e università c'è un possibile dialogo c'è una possibile possiamo intendo dire vedere un punto di intersezione perché naturalmente noi abbiamo l'idea che l'università possa essere un grande vantaggio per le PMI allora vediamo difficile questo rapporto allora secondo me è un'opportunità straordinaria te lo dico subito perché l'università rispetto a quando studiavo io sono n volte più aperte e ti mettono a disposizione moltissima conoscenza anche gratuitamente poi ovviamente si creano tutta una serie ci sono tutta una serie di percorsi perché l'impresa possa crescere insieme all'università attingere risorse con l'università e c'è certo io ricorderò sempre uno degli intervistati che è Filippo Berto di Berto Salotti che è un carissimo amico ed è un'impresa dell'eccellenza nel settore arredamento che è un'impresa estremamente innovativa pur essendo in un settore molto tradizionale lui si definisce artigiano è fedelissimo al suo distretto di Meda che ritiene il centro del mondo eccetera lui quando era presidente dei giovani della sua associazione mi diceva la grossa difficoltà quando siamo riusciti ad avere una collaborazione con la cattolica era fare arrivare i ragazzi dentro l'università perché il padre diceva ma cosa vai a Milano è lontana c'è traffico butti via un pomeriggio che senso ha magari non erano laureati una cosa e l'altra ecco oggi io devo dire che se riusciamo a vincere questa come posso dire questa pigrizia che c'è secondo me c'è una possibilità incredibile ma anche da casa cioè le persone con cui ho costruito il libro tu hai citato Gubita Francesco Venier Alfonso Fuggetta Stefano Mainetti sono tutti professori a cui ho chiesto aiuto per capire meglio e che tranquillamente su Facebook su LinkedIn con un colpo di telefono bevendo una birra mi hanno dato tutta la disponibilità del mondo per riuscire a chiarirmi un po' l'idea Stefano Filippo lo stesso Filippo Berto lui è stato adottato da alcuni professori di Venezia di Ca' Foscari ok perché perché per loro lui è un caso di studio quindi interessante vederlo crescere e per lui sono un straordinario modo di rispecchiarsi e di mettere ordine soprattutto per un'azienda che cresce molto e quindi vive molto di intuizioni ogni tanto bisogna di fermarsi e di riordinare e capire se questa struttura funziona quindi io invito veramente tutti a seguire le persone che io ho intervistato nel libro perché sono tutte persone estremamente generose nella loro disponibilità se tu pensi una delle cose che mi ha colpito molto io ti racconto per darti non è università ma per darti l'idea della disponibilità certo il primo contatto più aguto con Claudio Berretti di Tamburi & Partner che ripeto è un fondo estremamente importante quindi lui direttore generale non è una persona che ha tantissimo tempo io mi sono trovato ad avere una praticante che doveva laurearsi a breve il suo professore gli aveva promesso un'intervista con Tamburi e improvvisamente a una settimana della tesi è saltata perché l'imprenditore e il professore ha scoperto di non avere il contatto insomma che doveva arrangiarsi un po' la mia praticante allora io timidamente ho scritto ho fatto presente il problema e Claudio è stato gentilissimo mi ha detto guarda se mi mandi le domande per iscritto non riesco me la domanda a gestirla ma nel giro di un paio di giorni vi rispondo quando ho fatto il libro l'ho chiamato per dire ti scoccia se inserisco quelle domande che in qualche modo erano nate all'interno dello studio ovviamente all'interno del libro quell'intervista all'interno del libro e lui è stato gentilissimo me l'ha rimandata al giornato ovviamente perché voleva raccontare qualcosa in più certo poi ci ha pensato e mi ha detto senti Andrea ma bella l'intervista mi ha incuriosito ma non hai mezza giornata da dedicarmi perché vorrei conoscere di più del tuo progetto ecco allora a me questa cosa ha colpito molto perché poteva fregarsene voglio dire no? le mie imprese non sono in target con la sua realtà assolutamente però in un momento in cui si focalizza no? uno dice perché dovrebbe investire del tempo su una cosa che non è in linea con quello che potrebbe essere il suo obiettivo finanziario economico perché le persone curiose quando vedono che c'è sincerità anche nel metodo su gioco ti seguono e danno disponibilità su questo per me questa cosa qua è fondamentale e in università ci sono queste cose qui il Politecnico di Milano sta facendo cose eccellenti il Coa sta facendo cose eccellenti Caposcari sta facendo cose eccellenti la Bocconi in qualche modo è diventata più accessibile ecco e soprattutto mettono a disposizione moltissime ricerche certo e quello che mi stai dicendo quello che mi stai dicendo è che comunque ancora una volta da dove siamo partiti siamo partiti dall'uomo diciamo così e torniamo all'uomo cioè sono le persone naturalmente che poi all'interno dell'università fanno il meglio danno il meglio e io sono convinto che questo periodo intendo dire di emergenza che stiamo vivendo ci stia dimostrando ancora una volta come anche nel telelavoro in realtà non è una questione certe volte di organizzazione dell'azienda è anche quello non è una questione solo di tecnologia è anche quello ma è una questione di persona è una questione di avere di tirare fuori il meglio e quindi quando questa persona tira fuori il meglio in azienda se tu la mandi a lavorare a casa tirerà fuori ancora di più se in azienda tira fuori tra virgolette il minimo in casa tirerà fuori ancora meno naturalmente non è una questione di dove si lavora e poi guarda torno sono talmente d'accordo con te con quello che dici che torno sulla crisi della consulenza e in qualche modo sulla crisi dell'università quando noi abbiamo avuto la grande crisi del 2011 sulle imprese le imprese l'hanno vissuta portano ancora le cicatrici infamiliere ma le imprese molte imprese sono cambiate proprio perché la crisi è stata un acceleratore ha creato molti problemi ma ha costretto a darsi una scossa consulenza e università l'hanno vissuta molto meno questa e quindi sia la consulenza che l'università ricercano oggi il confronto con le imprese per recuperare un gap che non c'è un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo in questo mondo degli imprenditori diciamo dinamici proprio per dire che abbattengono molto spesso anche settori molto tradizionali è che in un paese che premia poco il merito premia poco l'innovazione lo vediamo adesso certo tu stai dando soldi a pioggia per cui quelli molto bravi si trovano in difficoltà perché i soldi sono pochi quelli che sarebbero dovuti fallire ieri improvvisamente hanno dei soldi e sono felici ok quindi hai poco premio all'innovazione molti imprenditori bypassano consulenti e formatori creandosi loro un piccolo club un piccolo circolo di imprenditori dinamici dove c'è un confronto molto forte e io questa cosa qua la trovo straordinaria vuol dire che c'è una vivacità anche nel tessuto imprenditoriale se ne parla poco perché sono molto molto ristretti molto riservati ma di cui che bisognerebbe provare a raccontare di più e io cerco di fare un libro sì questo sì perché questa disintermediazione che c'è in effetti dove uno salta alcuni passaggi e va direttamente alla fonte di quella che può essere una competenza una condivisione di conoscenze è una cosa molto interessante è una cosa che ancora una volta è resa più facile da tutta questa serie di tecnologie che appunto abbiamo a disposizione e che veramente ci possono consentire di sviluppare delle relazioni che sono delle relazioni poi sane perché sono do cioè offro e ricevo condivido non è che prendo solo qualcosa io ti vorrei sai cosa è cambiato proprio il rapporto se tu ci pensi in un mercato ragionevolmente stabile il consulente cosa fa guardo cosa fanno le imprese migliori definisco un modello poi vado dal nuovo cliente certo e lo forzo applicando il mio modello ok sì in un mondo che cambia molto velocemente ora che io ho fatto il best practice sono vecchie sì certo quindi o faccio da facilitatore quindi aiuto l'imprenditore a mettere ordine tra le sue idee suggerisco degli spunti suggerisco un dialogo che si costruisce con l'imprenditore un rapporto dinamico che non è una soluzione preconfezionata ma è la sua soluzione dove io contribuisco per quello che posso come consulente nel definire una struttura nel dare dei tempi prima dicevamo sta lì ho delle idee e delle scadenze a me spetta la parte importante di essere severo sulle scadenze di porre delle scadenze contribuisco all'imprenditore lanciando le idee la sintesi poi la fa lui poi tocca a me aiutarlo a mantenere la tabella di marcia ecco quindi secondo me tutto questo è cambiato un mondo è cambiato tanto le tecnologie come dicevi ci aiutano dobbiamo provare a essere più curiosi ecco questo è il segreto questo sì e devo dire che su questa cosa della curiosità ti faccio l'ultima domanda e poi vorrei chiudere con un'altra citazione che c'è nel libro che a me è piaciuta veramente molto che viene da un mondo che io non conosco e per cui non ho una passione ma che mi incuriosisce molto questa cosa della curiosità è fondamentale ed è questo ti chiedo se avessi scritto o se dovessi scrivere il libro oggi se cambieresti qualcosa sulla base di quello che sta succedendo con questa naturalmente crisi di questa emergenza sanitaria o se invece in realtà da un certo punto di vista questo è un libro che parla comunque di imprese di PMI di start up di consulenza di banche e così ma ne parla senza tenere conto magari di quella che può essere questa difficoltà cioè cambierebbe poco probabilmente nel libro se dovessimo considerare questo non lo so che cosa cosa ti viene da allora tieni presente che nella bibliografia del libro trovi testi di 10-20 anni fa quindi è un testo sul fare impresa non è un testo sull'ultima innovazione tecnologica è un testo che si basa sull'approcio certo quindi potrei dirti che magari avrei inserito qualche intervista in più perché nel frattempo sono nate altre cose e quindi è importante io su facebook ho un gruppo restart up dove periodicamente inserisco articoli stimoli e dove nasce una discussione proprio per continuare viva con gli imprenditori questo dialogo che per me funziona come zibaldone trovo una cosa interessante appunto l'idea che mi ha fatto venire in mente metto l'articolo e poi lascio che altri lo digeriscano lo mastichino e poi insieme troviamo qualcosa magari di più interessante di quello che ho trovato io cambierei forse la parte finale legislativa dove c'è però un capitoletto familiare un po' di egevolazioni all'innovazione perché mi ricordo comunque di essere un commercialista e allora le metto però però devo dirti che quello che cambia veramente secondo me è che mentre prima questo libro si rivolgeva a una platea più limitata di imprenditori così un po' più illuminati un po' più dinamici o magari i figli degli imprenditori a me la cosa che mi ha fatto molto piacere quando faccio gli incontri dal vivo è che solitamente arrivano i figli o le figlie dicendo mi fa l'autografo che l'ho comprato per mio padre o l'ho comprato per mia madre perché mi è piaciuto e adesso in realtà questa situazione di emergenza come posso dire lo rende di un ulteriore più impellente attualità insomma quindi anche a parte questo sì allora ti faccio una domanda che è arrivata da una persona che ci sta seguendo e poi chiudiamo e ci scusiamo per sforato leggermente rispetto all'ora che ci eravamo dati come ideale appunto durata ed è questo buongiorno e complimenti viene da Francesco Zortan quale può essere l'approccio più adatto per entrare in contatto con l'università per una PMI di provincia che vuole essere innovativa che suggerimento si sente di darci ma guarda io direi quello che ho fatto io molto banalmente quindi io ho iniziato a seguire un po' di professori che trovate nel libro un po' di consulenti che trovate nel libro da lì ogni tanto ci sono degli eventi sono degli eventi pubblici uno può andare a verificare controllare eccetera e poi magari passare al livello superiore poi ci sono dei programmi dei programmi interessanti proprio ieri per esempio c'era Alfonso Fuggetta che è il direttore del CEFRIEL che è un centro universitario anche lì legato al Politecnico di Milano che raccontava come con una PMI di una decina di milioni di fatturato quindi ovviamente non piccolissima ma neanche una multinazionale hanno creato un prodotto nuovo hanno disegnato un prodotto nuovo sfruttando sia le ricerche del CEFRIEL sia il network di ricercatori anche internazionali del CEFRIEL l'hanno presentato a New York e adesso il primo mercato di questa di questa azienda è il mercato americano secondo me il tema vero è dimenticarsi di un certo senso di inferiorità che non vuol dire non essere umili nel rapporto però e ricordarsi che le università oggi mettono a disposizione molti strumenti che strumenti sono quindi usarli come uno strumento molto apparentemente come prendete il commercialista prendete anche l'università ancora una volta però ci stai dicendo Andrea che è sempre una questione di relazioni nel senso che una relazione si costruisce nel tempo e quindi il fatto della relazione dà anche la possibilità di acquisire una sorta di familiarità e quindi di abitudine al confronto che naturalmente è fondamentale perché altrimenti si rischia di guardarsi sempre da punti di vista diversi e di vedere solo quello che è il proprio atteggiamento e io volevo chiudere appunto questa cosa leggendo una citazione che c'è nel libro che era quella a cui facevo riferimento prima per la curiosità ed è di Achille Castiglioni tu a un certo punto dici per imparare bisogna disimparare e secondo me disimparare è una delle parole chiave di questo periodo cioè a scuola non te lo diranno mai perché a scuola ti dicono di imparare però in realtà anche a scuola per imparare dovresti disimparare a affrontare l'argomento perché punti al voto ma affrontare l'argomento perché punti magari a capirlo meglio e a riuscire a farti una tua opinione allora Castiglioni che era un architetto era un designer diceva se non siete curiosi lasciate perdere se non vi interessano gli altri ciò che fanno e come agiscono allora quello del designer non è un mestiere per voi non pensate di diventare gli inventori del mondo non è così non deve esserlo cominciate ad allenarvi all'autoironia e l'autocritica liberatevi dall'ossessione di volere a ogni costo tutto inquadrare tutto catalogare tutto giudicare con il metodo della tendenza del tipo o peggio del premio del successo il voto di cui parlavamo prima un buon progetto nasce non dall'ambizione di lasciare un segno ma dalla volontà di instaurare uno scambio le relazioni la conversazione anche piccolo con l'ignoto personaggio che userà l'oggetto da voi progettato devo dire che queste secondo me sono parole veramente di una forza e di una visionarietà notevole perché ti costringono a tornare con i piedi per terra e a pensare che quello che stai progettando è una piccola cosa e come cambierà il mondo deriva anche da come la usa la persona appunto che ce l'avrà in mano e allora io volevo appunto ringraziare ancora Andrea Panato di aver passato questo tempo con noi di averlo investito con noi perché in realtà la stessa cosa che dice Castiglioni dell'oggetto del designer possiamo dirla del libro di Andrea Panato è un libro che secondo me darà frutto sulla base delle persone che ce l'hanno in mano e la sua umiltà nel porre determinati argomenti e nel parlare appunto di determinati argomenti che potrebbero essere molto complessi e complicati in quel modo invece secondo me è un grande vantaggio una grande qualità del libro e l'altra cosa è che e lo dico perché io non sono un consulente mentre lui è appunto un consulente io trovo pochi consulenti che abbiano la forza e la voglia di guardarsi dentro come ha fatto lui per scrivere questo libro e di parlare anche dei difetti della consulenza portandoti nel dietro le quinte facendoti capire che siamo tutti in realtà su questo mondo per collaborare per imparare dagli errori degli altri per mettere a disposizione delle intervigliere delle conoscenze ecco questo libro mette a disposizione esperienze e conoscenze e secondo me come succede a ogni libro è semplicemente un piccolo mattone su cui costruire un altro libro e vedremo se appunto Andrea Panatto oltre al blog porterà avanti questa cosa ma soprattutto trovare una via personale all'applicazione della restart up cioè a ridisegnare quella che in questo momento è la nostra vita e la nostra esperienza per cui grazie ancora Andrea grazie mille a voi grazie gentilissimi grazie grazie a tutti quelli che hanno seguito fino a questo momento tenete conto che noi vorremmo presentare almeno un libro al mese perché riteniamo che il libro sia un grande strumento intendo dire di approfondimento di conoscenza e vi diamo quindi appuntamento alle prossime puntate di questo palinsesto che abbiamo chiamato Happy TV grazie ancora e ci vediamo appunto alla prossima grazie grazie mille grazie mille grazie mille